Colori, profumi, rumori, è un'immersione totale nella natura quella offerta nel fine settimana da Gea. Il parco alle porte della città con i suoi 25 ettari d'estensioni si è nuovamente aperto ai visitatori per una due giorni all'insegna della natura. Un'occasione per scoprire le 1500 piante di 400 specie diverse che sono qui custodite, ma anche per approfondire le proprie conoscenze sulla natura che ci circonda, il tutto in un'atmosfera di festa. Laboratori per ragazzi e bambini, momenti di gioco, la possibilità di gustare i prodotti della terra proposti dall'agri-listoro nel mercato contadino di Cia Toscana Centro alcuni degli ingredienti di questo ottavo open day di Gea, un posto che rappresenta per Pistoia un polmone verde, un luogo di ricerca scientifica per avvicinarsi alla natura. Gea intanto vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che amano la natura, ammenano l'ambiente e anche per chi ne vuole fare la propria professione. Qui abbiamo in incubazione delle start-up giovanili che cercano di trasformare i loro studi, le loro ricerche, le loro passioni in imprenditoria e quindi c'è anche questa finalità. Comunque per ora è principalmente e soprattutto un luogo di didattica. Ad accompagnare in questo percorso di conoscenza autori, esperti, artisti come Emanuela Tonnarelli che ha proposto a Gea i suoi acquarelli botanici rappresentazioni di fiori, verdure e piante sorprendenti per la loro somiglianza ai soggetti reali. Sono sempre più attratta dall'aspetto, da quello che comunica la natura e quindi ecco è un mio omaggio al mondo naturale. Le piante, in particolare quelle aromatiche che possiamo coltivare anche nei piccoli spazi, come ha spiegato Claudio Coppi, autore del libro Natura Medica, nel giorno di apertura dell'Open Day in un dialogo con le docenti universitarie fiorentine, Carla Ghellardini e Nadia Mulinacci possono offrirci un viaggio sensoriale sorprendente, tra colori, profumi, sapori. Dal colore dei fiori all'aroma delle essenze, al sapore del carciofo piuttosto che della stevia, l'amaro o il dolce e tutte le sensazioni che contribuiscono a darci delle percezioni dell'ambiente cesato intorno e in questo queste piante riescono anche a darci dei benefici per quanto riguarda la nostra salute.